Andiamo al segno della Vergine, il sole entra nel vostro segno proprio in questa giornata, è un po' la ciliegina sulla torta di questo periodo che vi vede grandi protagonisti, è un sole che vi aiuta ad avere più fiducia nei vostri mezzi, ad essere più sicuri di voi stessi, ad affrontare anche questa doppia quadratura di Marte e di Saturno che è chiaro, è molto impegnativa, può portare dei bruschi risvegli alla realtà per chi stava magari coltivando qualche sogno. Però devo dire che in questo momento avete anche a vostra disposizione delle carte buonissime da giocarvi e quindi anche una piccola delusione può essere affrontata nella maniera migliore, in effetti questa è una luna che fa emergere, è qualcosa che non funziona, qualcosa che non va, quindi può sottolineare anche una decisione sbagliata che avete preso ultimamente.